Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Ragazzi, io ci tengo moltissimo a dirvi che siamo arrivati a 100 iscritti Ragazzi, comunque vi dico che il prossimo traguardo sarà i 1000 iscritti Allora, festeggiamo insieme questo 100 iscritti Vi faccio vedere i dominatori delle foreste Oggi ne ho preso un'altra, per cui adesso vi faccio vedere il minibook e poi vi faccio vedere quello che ho trovato Allora, nel minibook o rivista, che potete chiedere di colante Potete trovare tantissime curiosità sulle foreste E dico tantissime, le pubblicità, i giochi I giochi sono molto istruttivi ragazzi, imparano il mondo degli animali Soprattutto questo, che ti dicono i nomi Poi c'è un bellissimo labirinto in base Io ragazzi ho trovato il mio animale preferito Il leone Questo è il poster Lo aprite Guardate che bello ragazzi È bellissimo Vabbè ragazzi, comunque costano 4 euro Sono bellissimi E noi ci vediamo in prossimo video Ciao 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 Ciao